Prima e alla fine eravamo tutti ragazzi di periferia milanese con un sogno, crescere, vedere il mondo e diventare qualcosa, tutti però innamorati della musica. Signori siamo arrivati a un'altra puntata, oggi le telecamere potrebbero anche non servire perché l'ospite ha una voce talmente riconoscibile che potrebbero essere superflue. Mi fermo qui a te dare il benvenuto. Diamo il benvenuto a Ringo. Ciao ragazzi, mi fate paura voi due. Diciamo che io sono un po' l'uomo nero. Allora, mitico, mitico Ringo, grazie innanzitutto. Allora noi ti abbiamo introdotto come Ringo, però all'anagrafe tu hai un nome bello tra l'altro. Ti piace Rocco? Singolare, anche per la sua continuazione, Maurizio Anaclerio. Quando e come diventi Ringo? Allora, Maurizio è un secondo nome che mia mamma ha voluto perché mio padre mi ha chiamato Rocco, come mio nonno a Taranto. Il problema è che eravamo nove cugini Rocco. E alle feste quando dice Rocco ci giravamo in nove. Era impossibile. Quindi mise anche Maurizio, così riuscivo a... Ringo, allora, quando avevo 13 anni, siamo nel 73, si erano appena sciolti i Beatles. Io iniziavo a suonare la batteria da ragazzino in una cover band, come fanno tutti i ragazzini. È chiaro, quell'anno lì il gruppo, c'era solo Elvis e i Beatles, come adesso, perché il resto poi è fuffa. E chiariamo. Mi piace questa, mi piace. E io quindi suonavo la batteria perché volevo suonare la chitarra al basso, ma non ero capace, ero troppo giovane, ci voleva tempo. Si era liberato un posto per fare il batterista, quindi mi fece crescere i capelli a caschettino e mi chiamava... E tutti quanti da lì iniziano a mi chiamare Ringo Starr, come il batterista dei Beatles. Cosa bella che finalmente qualche anno fa ho conosciuto Ringo. Ah sì? Quello vero, sì a Luca, a Luca Summer Festival, ero emozionato come un bambino, è stato fantastico e alla fine Ringo mi dice, ma da quando è che ti chiami così? Faccio, guarda, al 73, mi fa, pay me, pagami. I diritti. I diritti. Lui mito assoluto, vero? Sì, sì, simpaticissimo, essendo una leggenda, in genere quando hai le leggende davanti pensi che magari ci sia un'entità, un ectoplasma, non lo so, e invece no, proprio mangiavamo pane e salame e si chiacchierava di musica, fantastico. E da lì mi è rimasto, anche perché se no qualcuno mi chiamava Rocky, da Rocco Rocky, e Rocky non mi piaceva. No, poi ti associavi a un altro tipo di Rocky, non era quella storia. A me mi andava bene, andava benissimo, la differenza che, sai che erano famosi per gli anelli loro, ma io mi porto solo uno, basta. Loro erano pienissimi. Pienissimi, sì. Minimal. Non ci riuscimo, sì. Quindi da lì parte la tua storia e praticamente dall'ora in poi tu rimani in Ringo anche nei locali, ovunque. Sì, perché poi l'anno dopo, a 14 anni, inizio a mettere dei dischi nel locale qua, pomeriggio, perché una volta andavano i pomeriggi. Sì, sì. E per i ragazzini mettevo i dischi, cioè facevo da secondo a un altro ragazzino che ne aveva 17. Io a 14 ero proprio piccolino. Tra l'altro è super precoce, perché ho 14 anni. Sì, e già avevo i miei primi dischi con le mance e mi compravo i vinili. I vinili, vero? Sì, sì, c'era solo i 45 giri. Molti li rubavo a mio padre, che mio padre aveva una bella collezione con mio zio, e io li rubavo. Senza le copertine, mettevo l'elastico nei buchi e mettevo i 45 spalle e andavo a un disco. Ah, così? Eh sì. Non si graffiavano, poi lo mettevi sul piano. Ma erano altri tempi, non pensavi al graffio, è difficile spiegare a volte, perché io poi quando racconto queste cose mi sento vecchio, perché ho passato delle decadini, io sono un dinosauro che parla con dei giovani, no? Perché sono delle cose... Però la scuola del pomeriggio me la ricordo anch'io, si andava a ballare il sabato pomeriggio. Insomma, da lì ho iniziato a mettere i dischi, il locale si chiamava C.O.C., era in via Vittadini, a Porta Romana, adesso c'è un banco, di fronte al parco Ravizza, adesso hanno fatto un palazzo, è un locale molto forte, penso che sia stato il primo locale gay club d'Italia. Quindi erano avanguardisti? Molto, 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 ma era forte per tutto, anche il modo di porsi, e sopra c'era la disco con Sylvester, con Summer. Quindi era due sale? Sotto c'era la sala, io ho detto, io vorrei mettere delle cose nuove, la New Wave, il punk, il glam che arrivava da Londra, io metto David Bowie, e da lì iniziamo... Ma come ti sei avvicinato al club? Cioè tu, 14 anni, prendi con questa passione grandissima e bussi alla porta del direttore no, 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 c'era un sacco di amici che avevano le disco, uno era Lino, quello che poi Lino aprì il plastic negli anni Ottavio, e lui aveva questo locale, appunto il C.O.C., dove c'erano queste serrate, non posso dire veramente cosa ho visto. Vabbè, ormai sono passate, fanno parte di una... Ma no, ma perché adesso quando vedo i giornali che si incazzano e scrivono cose, mi fanno ridere, cioè queste cose le ho visto negli anni 70, ma tutto, anche droga, sesso, rock and roll, mi viene da ridere, adesso è un'insalata. Anche insipida. È un'insalatina adesso, le cose che sono successe negli anni 70, se le racconta c'è la... Lei racconta mia figlia ogni tanto, lei... Quanto è nato, figlia? Adesso ne ha fatti 24. Ok, e quando glieli racconti, chiaramente la catapulti in un'epoca che lei non potrebbe mai pensare che esistesse. No, perché lei poi guarda le serie televisive o ascolta tipo... e mi chiede la testimonianza dell'epoca, e io gliela do. Certo, certo. Quella è la cosa figa, vero? Non vi dico le cose che vengono fuori. Comunque, frequentando loro, c'era un negozio, c'era un bellissimo negozio in Piazzale dell'Agosta, a Milano, che si chiamava Strega. Poi un giorno, se trovate qualcosa su internet, e lì, diciamo, c'era tutti gli sballati di Milano, frequentavano quel negozio, perché gli stilisti facevano cose coloratissime, i primi jeans spaccati, le sacche di jeans rovinate, i jeans... scarpe a tennis di tutti i colori... Ma già Milano, in quell'epoca, la mia domanda è, era già abbastanza emancipata? Sì, molto, molto, molto di più da adesso. Cioè, si distaccava molto dal resto d'Italia? Sì, anzi, non c'era proprio rapporto dal resto d'Italia, perché eravamo anni luce, avevamo amicizie con Londra, con Parigi, io frequentavo Parigi e Londra, perché... Perché la cultura poi arrivava da lì. Sì, perché poi fuori da Milano, quando giravamo fuori da Milano, cioè io avevo a 16 anni i capelli azzurri, ma la gente mi guardava come un matto, la polizia mi fermava e chiedeva i documenti, c'hai capito? Che a volte succede anche adesso. Poi sa che la polizia aveva quella macchina verde. Ma è vero, che poi ha cambiato colore? Sì, sì, vero, vero. Perché poi è nel tempo che ha metto verde. Capito, avevo incalcato il metto verde, quindi ci sono passati anni. Quindi frequentando quell'intelligenza milanese, e poi si arrivò in pochi anni a prendere il plastic con lino, e dove cominciavamo a frequentare poi Andy Warhol, c'era insomma... Quella Milano lì, fatta di plastic, Guiducci, lo... Nicola, sì, sì. Witabix, si chiamava, il nome d'altro era Witabix. Witabix, ok. DJ Witabix. Lo fondò praticamente. Sì, sì, sì. Si può dire che lo fondò. Certo. Nel frattempo, che era lo studio, il nostro studio è 54. L'ho fondato Lino, fratello più giovane di Lucio, che era lo storico, poi quello della porta, di plastic. Ecco, Lino Nisi, era lui che mi ricordo ancora adesso, noi eravamo una sera a mangiare la pizza e mi dice, c'è un locale super lesbo, mi sfugge anche il nome, andiamo a vederlo perché forse non lo mollano le ragazze, lo prendiamo noi. Ed era, non so se è stato il vecchio plastic. Ma in Viale Umbria? Sì, sì, certo. Killer plastic. E da lì poi diventò plastic. Quindi il primo, cioè lì era Lino, Lino Nisi, c'era Salvatore che poi era salvatrice che faceva la porta. Killer Salvo. Killer Salvo che è scomparso da poco. Io poi l'ho conosciuto dopo negli anni. No, no, bello, dallo questo spaccato perché è proprio bello catapultare l'utenza in quel mondo perché secondo me molti non sanno neanche da cosa arrivano alcune cose. Cioè, Salvo arrivava a lavorare, a volte diceva, oh mi saluti? E io dicevo, è perché si vestiva da Marilyn Monroe magari, no? Sì, sì, sì. E io, ah Salvo, scusa, no, era quella barba, poi lo vedo Marilyn Monroe, ma non perché volesse fare chissà che cosa. Perché aveva voglia di vestire Marilyn Monroe. Certo, certo. Quindi adesso quando vedo, non so, Luca Summer Festival, questi che fanno i pre... Mi fanno ridere. Se vieni agli anni 70 a Milano sballavi. Pazzesco. E' nato tutto da lì alla fine, dai, no? Siete stati precursori. Cosplayer. Parlando degli anni d'oro passati, ti chiedevano mai che musica ascolti? Sai che la domanda famosa, no? Quale musica ascolti un po' ti definiva come persona? Era tanto sentito, eh? Beh, sì, qui arriviamo poi... Sembra una domanda scontata, però in realtà non lo è. No, ma io non vi do per scontati, ragazzi. Sennò non venivo. Io non accetto di incontrare nessuno se non sono curioso. Ok, ok. Se sono curioso, allora... Conta che fino agli anni 70 arriva la politica a Milano. Era pericolosissimo. Ok. C'erano manifestazioni, un morto al giorno, gente che... La gente alle manifestazioni sparava a altezza uomo. Ci sono delle foto dei filmatici storici. Prima ancora dei brigatisti quasi, no? Quindi per noi era molto difficile girare. Io ho qua, vedi un segno? Era molto pericoloso. Vedete questo labbro rotto? Sì. Avevo sei punti. Mi hanno picchiato perché mi hanno mandato nel nazista per strada e mi hanno massacrato di botte perché avevo i capelli corti. Sì, ma infatti solo perché ti hanno visto... Non erano abituati, erano tutti con i capelli lunghi, gli occhialini, frequentavano la lotta continua, ma dei trogloditi allucinanti, cioè... E quindi non abituati... Noi arrivavamo a... Sai, noi seguivamo Londra, David Bowie, la New Wave. Quindi andavamo a Londra, tornavamo con il taglio nuovo, la cresta... Consaminazione pure. Eri diverso da allora. Staccavano di botte, dandoci dei nazisti, senza neanche sapere... Ma non ci fregava un cazzo la politica, noi a fare musica, cioè... Un po' gliene davi, dai. Ma ero giovane, questi energumeni erano grandi. Tra l'altro qualcuno di quelli, poi mi sono preso qualche ridincita, e anche... Sono tutti politici adesso. Ah, addirittura? E fanno i fenomeni, ed erano tutti picchiatori. Ah sì? Sì, sì, sì. Ma al tempo c'erano anche i paninari, no? Sì, c'era già quella. C'era una categoria che le prendeva anche tanto, poverini. Perché c'era questa cosa, a Milano, tra l'altro questa zona qua proprio, io frequentavo proprio qua avanti... Beh, cos'era? Via Torino, San Babila. Con Giosquillo avevamo il centro Santa Marta, via Torino, e molte volte avevamo a scappare, perché questi arrivavano con le spranghe di legno, picchiavano tutti, non sapendo bene che cosa fossimo, menavano. Poi tra l'altro allora Milano era molto più stretta rispetto a ora, poi c'è stata l'espansione, no? Certo, certo. Quindi mi rendo conto che questo era il centro e si sviluppava tutto qui praticamente. Sì, sì. Ma era una Milano in cui i punk e i paninari riuscivano a convivere? Ma allora, ogni sabato e domenica c'era una rissa. Qua in via Torino, qua proprio, c'erano sempre risse, perché poi i metallari stavano in un negozio in via Torino più avanti, però bene o male poi aiutavano i rocchettari punk. Poi c'erano anche un po' di mozza, anche mi ricordo. C'è da dire che quando arrivavano questi dalla politica me ne avevano tutti. Tutte queste sottoculture, chiamiamole così, una volta le chiamavano sottoculture, punk. Perché alla fine eravamo tutti ragazzi di periferia milanese, con un sogno, crescere, vedere il mondo e diventare qualcosa. E tutti però innamorati della musica. Loro non riuscendo a catalogare questi ragazzi, li vedevano di destra e ci menavano. Non riuscivano a etichettare, per partito preso. Sì. Però ripeto, poi ogni tanto magari ti incontravi con i paninari, ti scontravi, partiva la parola sulla tua ragazza, quello, le scarpe, che loro non ti amarrissi i paninari. Mamma mia. Ed erano qua vicino, stavano da Burghi, in San Babila. Sì, in San Babila. Sì, sì. Era un McDonald's all'angolo però, in via Dorini. Ma io comunque conoscevo tutti, lavorando nelle discoteche. Ma tu hai sempre lavorato come DJ? Sì, sì, sì. A 14 anni ho iniziato come DJ. Ed allora non hai mai fatto pubbliche relazioni? Sì, le facevi indirettamente? Ma sai, le facevo perché, tra l'altro, quando io poi andavo a Los Angeles e tornai in 1986, la prima discoteca che avevamo aperto, prima dell'Hollywood, per sei mesi era in San Babila. Si chiama Synthesis. Dove c'era il teatrino locale dove facevano questi spettacoli erotici. Siccome io portai da Los Angeles della musica pazzesca, rock, portai da New York i Beastie Boys, che avevo conosciuto i giovani ragazzi, mi dicevano, oh, noi facciamo musica, mi regalarono il disco, no? Io ho messo il disco con la prima volta i Beastie Boys e svuotò la pista, scapparono tutti. Sì, certo. Poi da lì invece esplodemmo come locale e prendemmo l'Hollywood. Questo è un 86. E infatti poi ti volevo raccontare, perché non molti sanno di questa parentesi tua dell'Hollywood. E quindi, quando lavori in disco, lo sai, comunque dopo il disgiocchio è abbastanza affortunato. Soprattutto poi anche adesso sono delle popo star, quindi... Sì, è un punto di riferimento. Sì, punto di riferimento, chiacchiere, bevi qualcosa con qualcuna, qualcuno, quello che vuoi. Insomma, poi venivano tutti da me e mi dicevano, che bello questo disco. Ecco, e io mi avevo preparato dei pacchi di post-it, i primi che erano usciti una volta, che una volta erano grossi, non piccolini. E io ogni volta con la matita, questo è... Perché non c'era Shazam. Non c'era Shazam. E io tutto, che palla, scrivere. Anche perché io volevo fare il carino con i clienti, quindi scrivevo tutto e via, davo. Ma come ti nutrivi di musica? Com'è che raccoglievi la musica durante i tuoi viaggi? Sì, io scappavo sempre in treno. A 14 anni sono scappato, sono andato a Londra, in treno. Facevamo dei viaggi con l'Interrail. Certo, mi sa che c'è ancora. C'è ancora? Sì, sì, certo. Io mi ricordo che costava 5.000 lire e 10.000 km in Europa. Madonna bellissima. E noi ce ne andavamo a Berlino, ce ne andavamo a Londra. Ma quanto... Cioè, tu andavi a Londra, chiaramente, per informarti, per prendere ispirazione. Quanto stavi lì? A volte stavo un mese, poi tornavo, finendo i soldini e tornavo. Poi, invece, ci sono rimasto un anno quando esplose il punk nel 78. Quindi hai dovuto cercare un lavoro per forza? Sì, guarda, lavavo boccale di birra nei pub, pensi, sono allergico all'alcol, mettevo dei guantoni... Ti ricordi quei guantoni all'alcol? Tipo da veterinario. Sì, bravo. E poi prendevo... Avevamo occupato uno squat, una zona che si chiamava Killboard. Adesso è una zona figa, all'epoca è una zona... Sì, che comunque è sempre così. Ruspante. Tutti, sì, c'erano schinette, bocca, va bene, casino. Stai un mese lì? Sì, in questo squat. E prendevamo il sussidio, l'Ubi 40. Ma il sussidio? Ubi 40. Scusami, perché prendevate il sussidio? Perché avevamo chiesto che vavamo abitare lì, non c'avevamo lavoro. Da qua o là? Ci davano 150 sterline al mese. Ok, che era comunque una grande mano. Ah, sì, 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 sì. Ma il lavoro c'era? Effettivamente. Ma chi voleva farlo? No, esatto, infatti. Immaginavo. E quindi lì che tipo di aria si respirava? Che vita facevate? No, che vita facevate? Figa l'onda quegli anni, era figa ragazzi, cacchio. Cioè, ho visto i Pistols, i Clash, ho visto Nascere i Clash, i Pistols. I tuoi idoli fondamentalmente. Sì, ho lavorato per loro, cioè noi andavamo lì, gli scaricavamo i tier per la sumentazione e entravamo gratis più una birra. Io c'è dratta perché non bevo... o spuma da fuori. Però, e poi intanto conoscevo Seed Vicious, i Clash. Intanto ti infarinavi di tutta quella bellezza. Adesso è un po' più complesso fare il service, però... Sì, però stiamo parlando del 78, ragazzi. Ma prima parlavamo di tutta la vita delle subculture, di vari gruppi che si creavano. Quanto mi mancano subculture. Sì, è proprio inviatorino, no? Ma prima parlavamo con Frank e mi diceva che... Tu hai conosciuto Madonna? Sì, allora ci invita. Fiorucci, Elio, fantastico personaggio, ci invita. Ma da lui in negozio? Sì, è il negozio in San Babila. Lui era già a Fiorucci. Sì, a Fiorucci, i jeans, gli angioletti, i puttini. Cioè, lui era quello che aveva aperto lo suo il 54 a New York. Tra l'altro, quando aprì... Sembra un negozio, vabbè. Quando ci fu l'apertura di Virgin Radio, io per i primi due anni, Elio ha lavorato come a Virgin. Ah sì? Mi facevo fare una pillola sulla moda. Ok. E lui mi raccontò una di quelle pillole che non sapevo. Che lui, quando fece il suo il 54 a New York, faceva molto caldo quella sera, c'era un inferno. Andò un attimo fuori, si prestrada a respirare. Poi rientra e le bodyguard, quelle che stanno alla porta, fanno le chiave. Vada, vada. No, veramente sono io. L'han cacciato. No. Sì, e una volta non c'erano i telefonini. Quindi non è potuto rientrare? No, finché poi è uscito un direttore. E gli ha detto, siete pazzi? Ma che cosa fate? Mi racconta questa cosa e mi fece come dar ridere. No, Elio... Tra l'altro dovevo suonare. Io avevo un gruppo che rolla, Bats, Pistrelli, che suonavano in pomeriggio. E poi la sera suonavano i Puma, con un altro gruppo rock, ma tanto per preparare la festa. In Puma c'era il basso Leo Mas, che è un grandissimo disegno. Ma un DJ, Leo Mas. Sì. Quindi parte da lì tutto. E poi dopo inizia Keith Haring, che adesso non voglio dire una cavolata, scusami Nicola, Guiducci, ma penso avesse una storia proprio con Guiducci, erano insieme. Adesso non vorrei dire... Mi ricordo così, poi magari dico, tiro fuori un segreto... Pam, domani sui giornali. E Nicola mi dice, andiamo che Keith vuole fare tutto il negozio con le bombolette. Un mal di testa. Tutto il pomeriggio... Ui, avevo un mal di testa, quello dove... E con Keith Haring divertentissimo, pitturava tutto. Pensa che io lo sfottevo, mi pitturo per rispetto un giubbotto di jeans. Pensa se lo conservavo. No, non ce l'hai più. Ma no, lui mi ha detto, ma no, un po' l'ho buttato via. Che rock, che eri. E la sera, a parte questa festa enorme, Milano bloccata, non mi ricordo i nomi di chi è venuto, ma nomi pesanti. C'era, mi diceva, egli mi diceva, stai un po' con la mia amica quella lì, perché tu parli inglese, io lì con delle modelle, quindi non è che... Sì, vabbè, ma dai, mia amica americana, dai, cagano un attimo, perché io la vedevo un po' tamarrina, tutta vestita di nero con questi veletti neri, le incroci fissi alle orecchie, dicevo, sembra un incrocio tra Santuzza, mia nonna Taranto e... Però lei ci ha parlato, gli spiegavo, cos'è, what is this, tartina, tartina salmone, parlavamo così, e secondo me io ho anche, adesso dico una bordata, una cannonata, secondo me io secondo me se mi buttavo le piacevo pure. Lei era già, che ne so, in erba? Il primo singolo. Aveva già fatto il primo singolo. Lei presentava il primo singolo, penso che fosse Lucky Star, adesso non mi ricordo, perché sono passati tanti anni, e poi si chiamava Madonna. Ma tu quando è stato poi, quando tu l'hai rivista e che hai detto, no, è Madonna. No, ho rivista, hai visto poi... Poco tempo dopo lei esplose, dico, porca miseria, facevamo un po' gli occhi dolci, dovevi impegnarti un po' di più. No, vabbè, sono cose che mi immagino io, prima non mi cagava neanche di striscio. Però mi ricordo questa ragazza carina, gentile, simpatica, energetica, che proprio ci teneva a dire, anch'io sono di sangue italiano, mi spiegava che aveva i nonni. Ragazzi sono passati tanti anni, quindi a volte faccio fatica, cerco di... Ma veramente sono tanti anni. Tu eri tra i pochi che parlavi inglese, tra l'altro, no? Elio mi chiese di parlare con lei, perché pochi parlavano la mia madre inglese. Eh, certo. Non si parlava inglese qui. Era un danno, un disastro. Non credo sia meglio. Quindi mi chiese, parla con lei, stai un po' con lei, perché è la mia ospite. Poi lei cantò appunto questo singolo. Poi, se non sbaglio, dopo pochi giorni, lei mi diceva, I'm going to Venice, no? E andava a Venezia a girare il video, quello con i leoni, se ve lo ricordate. Certo. Sì, 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 ma è iconico, è rimasto iconico questa cosa. E ho stili ricordi, però ripeto, molte volte faccio fatica, perché... No, è tanto tempo fa. Ero tutte le sere fuori, tutte le sere fuori, tutte le sere succedeva qualcosa. Cioè, poi quel muro lì, Fiorucci, Elio, l'ha fatto rompere, so che ne aveva in casa dei pezzi, col disegno di Kitering, i lupettini, ti ricordi? Che io dicevo, ma che cazzo fa con questi lupettini? Se io lo guardavo, mi dicevo, ma... Ma sì, perché era anche un po' inconsapevole, per te era tutto nuovo anche quello. Tutto nuovo, mi dicevo, ma a New York fa sta roba, gli dicevo. E lui che pittava fuori. Senti, sai quando si dice, quel momento lì, stavo vivendo quella cosa, ero felice e non lo sapevo. La mia domanda è, tu stavi vivendo quel momento, ma avevi degli attimi, tra virgolette, di lucidità nel senso razionale che dicevi, Dio mio, cosa stiamo vivendo? Allora, a Milano era normale, la Milano in 80 penso sia irripetibile. Le feste della Milano in 80, la gente che frequentava Milano era incredibile, incredibile. Veramente veniva per l'arte, feste incredibili dove parlavo con Andy Warhol, parlavo con... ma è normalissimo. Adesso sarebbe un casino, no? Quindi non mi rendevo conto perché ero giovane, ero pieno di energia, vivevo la vita come la vive un giovane. Ero fortunato magari a vivere dei momenti con delle persone che comunque sono cresciute in mezzo all'arte, alla musica, a persone di un certo valore, designers, c'erano dei designer pazzeschi, architetti, no? Quella Milano lì era veramente potente, molto bella. Certo non ero preparato con l'età per poter capire cosa la vita mi stava regalando. Ok, l'hai capito magari un attimo dopo o c'è voluto del tempo per capire? No, ma ci arrivavo un anno dopo. Non molto però. Ci arrivavo un anno dopo. E quando è che ti è scattato? Perché proprio un anno dopo? Perché dopo, voi dovete capire che adesso, vedi, abbiamo i computer, televisioni, abbiamo tutto, in due secondi sai tutto quello che succede a New York adesso. Io un disco lo aspettavo 20-25 giorni prima di aprirlo, quando lo ordinavo. Si parlava anche di 40 giorni. 40 giorni. C'è tutto, era molto più dilatato. Conoscere una ragazza o un ragazzo, avere una storia con una persona, non era come adesso. Cioè tu, io chiamavo a casa della ragazza. Se rispondeva il padre e la madre, buttavo giù. Se rispondeva il fratello più giovane, diceva, te la giocavi. Te la giocavo. Quindi già, poi, non c'è, viene stasera più tardi. Cioè, poi magari riusciva a parlare con lei e dicevi, ci vediamo sabato, perché il giorno di uscita era sabato. Sì. Quindi tu magari chiamavi lunedì. Deve aspettare cinque giorni. Però intanto dicevi, io sono insieme a sta ragazza, ma per sei giorni non la vedevi. È vero. Follia. Follia, cioè io dicevo, oh, noi siamo insieme. Ma ci siamo visti una volta solo a sabato e poi devi aspettare altri sette giorni. Era tutto così. Non c'era andiamo a ristoranti infrasettimanali. Ma che c'era? Non c'erano quei soldi. Oppure, comunque, al massimo bevamo una cosa, una bibita. O si usava molto il cinema. Perché quando c'erano il cinema nel buio, potete anche un attimino fare un po'. Certo, i fatti tuoi. Capito? Qualche bacetto, dai. Ma se si potremmo così di più è meglio. No, perché se no io ero frustratissimo. Io ripeto, ed io ero fortunato di fare il disgioche. Avevo molte conoscenze. Ma su Londra era diverso, però? Su Londra c'era, no, no, molto più avanti. Esatto. Anzi, fin troppo sesso. C'era molto spinta Londra quegli anni. Qui tu ripiombavi qua, quando magari tu facevi i tuoi viaggi, ripiombavi qua e notavi che c'era una lentezza diversa rispetto a Londra. Sì, e quella è diventata la mia forza nella mia vita, nel mio lavoro. Cioè, prepararmi all'estero, poi tornavo in Italia e giocavo a occhi chiusi. Ah, certo. Quello è stato un po'... L'ho fatto negli anni settanta col punk, l'ho fatto negli anni ottanta con Los Angeles. Quando tornai feci l'Hollywood, cioè... E l'Hollywood com'è stato? Parliamo di questa cosa. Cioè, nel senso, noi conosciamo l'Hollywood perché, essendo più piccolini, chiaramente abbiamo un'altra visione dell'Hollywood. Tu ti immetti nell'Hollywood o crei l'Hollywood? No, io torno... Allora, a Los Angeles ero un re. Lavoravo in uno dei più bei locali di Los Angeles. Vivevo in questa modella... Però anche lei ti sei costruito un percorso anche a Los Angeles o sei arrivato che già avevi... No, io sono arrivato... Avevo conosciuto in Libano questo... L'ho fatto anche militare nel frattempo. E ero stato in Libano. E avevo conosciuto in Libano con questo sergente americano che è diventato mio amico. Che mi invitò a Los Angeles perché c'erano troppi soldi per vivere a Los Angeles. Invece avere già uno che ti ospita... Paghi il biglietto e dici vabbè... Ho fatto. Quindi andai con... Ti ricordi il carrello della borsa della spesa delle nonne? Sì. Io staccai la borsa di mia nonna e mettevo tutti i vinili su così. Poi con l'elastico della macchina li bloccavo. Li chiudevi, li bloccavo. E arrivai a Los Angeles con due o trecento vinili che loro non avevano. Non c'era internet. E io cominciavo a fare la prima serata... In che senso non l'avevano? Come facevano a suonare loro? Avevano un'altra musica americana. Sì, cultura diversa, cultura diversa. Cultura, suoni diversi. Io arrivai con i 12 Inch inglesi. Quindi io portai... Novità. Io questa giovane band chiamata The Pesh Mod. Lui dicevo, wow. Portavo tutti i remix dei cult, dei Billy Idol che poi andano a abitare a Los Angeles. Cioè loro non avevano remix. Avevano molto poco. Io quando iniziai a portarsi i disco, impazzivano. E feci una serata chiamata... Il mio locale ha chiamato... Il primo locale che ho lavorato a Los Angeles era The Bordellos. Hai fatto una data in italiano? The Bordellos. Perfettibile. Perché il mercoledì sera era un tempio sconsacrato ebraico. Pazzesco, con delle colonne, queste costruzioni a Los Angeles. È tutto grande, no? E lì mettevo... La mia serata si chiamava British Invasion. Ah, poi il tuo. È il mio. E io lì in primo anno ho sbancato. Tutti mi volevano. Cioè la gente veniva da sola? Perché sentivi... A Los Angeles sono 20 milioni di persone. Quando fai una cosa... Se ti arriva anche il 2%. Ma quando si sparse la voce che avevo questa bella musica, io ho avuto il piacere... E da lì io ho formato la mia fortuna lì. Perché io nelle discoteche che lavoravo a Los Angeles venivano Prince, Bowie, Motley Crue, Billy e ho iniziato le mie amicizie con loro. No. E quindi per me è stato... Quando tornai qua nel 1986 la prima festa che feci all'Hollywood era il compleanno di Prince. Che lui mi chiamò vengo a fare il tour. Devo fare la festa e organizziamo con Versace la festa di... Però tutto questo non sarebbe nato... L'hai fatto prima lì. perché io arrivavo da... Ci sono le amicizie che tu hai creato vivendo sei anni lì. Capito? Ok, quindi sei stato sei anni? Sei anni, sì. Quindi poi sei tornato qua. Poi sono scappato perché ho fatto un danno. me lo dovevo tagliare il pisello, vabbè. E me volevano sparare. Ok, senza mezzi termini. L'errore proprio donna sbagliata del tipo sbagliato. Quindi io torno a Milano per far cambiare la situazione lì. rincontro i miei vecchi amici del plastic, del disco ZAM, la discoteca lì dove c'era in Porta Romana appunto. Milano, fine 85, prima 86. Era un attimino, oddio, che succede a Milano? L'ho vista un po' barcollante. C'era un cambio, secondo te? C'era un cambio. Era barcollante. Dico, che succede qua? Da cosa te raccordievi? Perché i DJ mettono la musica orrenda. facevano dei grossi, li chiamavo frittimisti io. Mentre i DJ, all'epoca i DJ dovevano dare una linea. Cioè la gente si muoveva a Milano perché c'era il DJ che faceva una musica e le compagnie seguivano quella musica, quel locale. E da lì nasceva la tendenza. Seguivano quel negozio dove tu prendevi quel jeans, quel modo di vestirsi, quel parrucchiere, c'erano pochi che ti facevano quel taglio, quel colore. E in quel momento Milano barcollava. A quel punto là io dico, io sono arrivato qui che ero senza soldi perché ho avuto lasciare tutto lì a Los Angeles, scappare. Ah, ok. E mi incontro con loro, ci vediamo a Bartel Garzelle, in corso Vittorio Emanuele. Certo, quello che c'è però. Non avevamo i soldi per pagarci il conto, quasi insieme, però incontro Giorgio Baldalcini, Roberto Galli, con loro, i miei storici amici. e diciamo ragazzi voglio fare, dai faccio io, voglio fare festa. Metto la musica, ma rock, ma sei sicuro? Sì, poi c'è un nuovo genere, si chiama rap, mettiamo anche un po' di questo. Ma cos'è sto genere rap? Guarda lo faccio sentire. E poi c'è anche della ottima, a Chicago ci fanno un genere che si chiama House. Ebbè. Porto un DJ, un mio amico da Chicago, facciamo tre DJ differenti a Lolle, facciamo tre musiche differenti nei vari orari. Secondo me funziona e prendiamo prima la sintesi in San Babila, poi esplose, con una festa bellissima di compleanno di Annie Lennox, degli Eurythmics, che erano lì, no? E da lì... Bestiale perché io rimango stupito perché chiaramente tu fai dei nomi che sono normali, è giusto così. Beh, li frequentavo a Los Angeles. Certo, certo, è giusto così. Non lo dico perché voglio fare il figur. No, 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 figurati, ma si vede assolutamente. Però è così bello perché questi nomi che lui sta facendo poi sono quelli che hanno dato un'infrastruttura alla musica mondiale. Che giustamente per lui erano amici, quindi erano persone normali, con due braccia e due gambe. Per noi chiaramente sono extraterrestri, ma giustamente funziona sempre così. Però è bestiale capire tutta questa cosa qui. Ma quando voi avete fatto l'Ollywood, già esisteva? No, sintesi, a quel punto esplodiamo. C'era la coda in San Babila a 200 metri di persone. Il locale era piccolo, 400 persone. Era stipato. Che pagavano quanto, ti ricordi, quanto pagavano l'ingresso? D'accordo, non ho mai pagato in discoteca. Certo, magari 5.000 lire. Sì, 5.000 lire. Allora facciamo la seconda riunione al Tre Gazzelle, con qualche soldo in tasca finalmente, e decidiamo, dico, senti, ho bisogno di locali più grandi, io, Giorgio, lì è piccolo. E dicono, andiamo, che cazzo chiediamo? Ho saputo che l'Hollywood, che era la mia prima discoteca che andavo a ballare, si chiamava Mandala. Ok. Mi ricordo. Sta andando male. Andiamo a parlare, andiamo da Nino Camarrota, che purtroppo è scomparsa, era il vecchio storico padrone, del Mandala, la prima discoteca Bambule di Milano era. Guarda, no? Sì, c'erano le canne, va bene. Avevamo la loro filosofia di vita. E andiamo a parlare con lui. Il venerdì sera c'erano tre paganti. Ah, così? E lì, dico, senti, noi vogliamo fare così, così. Ce lo dai? C'erano affitti, così noi facciamo le feste qua. Come lo chiamiamo? Io abitavo a Hollywood, chiamavo a Hollywood, ho detto. Abitavo a Hollywood. Facciamo Hollywood. La storia del nome è questa. La storia è pazzesca. Cioè, così me la stai... Sì, sì, proprio così. E Nino ci dice, napoletano tosto, vedeva lungo, vedeva il futuro per la visita. Io ve la do, io ve la do, sai quella c'entra voi, però rimango socio con voi dentro. Grande. E quindi nacque la società tra me, Nino Camarrota, Giorgio Badalcini e Roberto Galli. Questo è l'Hollywood Store. Apriamo in 86 e da lì, dopo una settimana, facciamo la prima festa di compleanno di Bonovox, degli U2. Festa con lui, non ti dico, pazzesca, era in piaccia, era la coda... La coda arrivava di Parreggimilie. La zona malfamata. Sì, perché è diverso. Tutto buio. Hai ragione, hai ragione. C'era la zona di Bischi e di... Quindi c'è però... Ma io ricordo che all'Hollywood, adesso, beh, in Gavlenti, no? Questa zona lì, c'era una... Cosa c'era da fronte una... Non c'era niente, c'era tutto parcheggio buio. E c'era anche un prato. Solo prati e parcheggi. E, infatti, il problema era che spaccavano le macchine e rapinavano qualcuno perché era molto buio. E noi, con i primi soldi dell'Hollywood, abbiamo preso un servizio d'ordine fuori, tenavamo dieci persone che accompagnavano il cliente alle macchine. Perché comunque era buio. Certo. Qui tu lì ti sei trasformato da normale, tra virgolette, disc jockey, questo è un termine bellissimo che ho utilizzato a mio papà quando ero piccolino, lì eri imprenditore. Sì, imprenditore anche, per forza di cosa, anche se io non curavo la parte finanziaria, parte artistica. Io facevo artistica, con Roberto Galli facevamo delle feste pazzesche, ma quando vedo adesso c'è la festa bianca, tutti i vestiti bianchi, mamma, mi sparerei i coglioni. C'era la notte rosa, ma che cazzo vuol dire? Fatevi un giro negli anni 60, 70, 80, dove veramente c'era arte pura, chiamavamo pittori che pittoravano al momento quadri, c'erano i masugli della body art, io l'ho vista la body art, io non l'ho apprezzata perché ero già verso il rock anni 70, però c'erano delle feste a Milano dove tutte queste ragazze nude si buttavano nei colori, si rotolavano per terra o sui muri e pittoravano i muri col corpo, c'era, sì, magari veniva Corrado Levi che era il docente di architettura a Milano, ma era anche un grandissimo artista, fu il primo a tagliare le tele, tu dicevi, ma cos'è questo quadro? Lui tagliava le tele con il rasoio, famosissimo tutto il mondo, per dirti, cose che io ho visto negli anni 70, 80, di cosa stiamo parlando? Adesso mi è veramente la fuffa. E lì facevate due serate a settimana? No, abbiamo aperto tutte le... iniziamo perché aveva... Milano era settata alla ricerca di un locale che facesse tendenza ed esplode l'Hollywood, poi sai... Ringo, tu hai preso il locale intero quindi, non hai fatto la serata? No, abbiamo preso il locale, però l'abbiamo comprato. Io ammetto che dei soci, fui l'unico a non pagare neanche una lira, perché loro per tenermi dentro come DJ mi hanno detto, ti diamo il 25, firmai le quote senza mettere un soldo. In equity, top. Quindi tu non solo davi musica, davi un network incredibile. No, portavo io dall'onzo, arrivavano tutti i portafattoli a Billy Idol, loro sapevano da Los Angeles che se andavi a fare il tour in Italia, a Milano c'era l'Hollywood con Ringo, di appoggiarsi a me. E io li organizzavo tutto... Io ti avrei dato anche un 40 per il cento. E quindi tu, il locale incomincia a girare, fate diverse serate. È passata la storia, cioè sui libri americani, i libri di turisti americani, quando venivano in Italia, le cose da vedere e da fare, c'era l'Hollywood, è una cosa storica, puoi andare a controllare, cioè c'era il Colosseo a Roma, se passi Milano, l'Hollywood Club, Amazing Club, è un garage, poi era un magazzino l'Hollywood, no? Io ti dico che ho fatto il PR all'Hollywood. E per quanto tempo sei stato lì? Fino al 2005, poi ho venduto perché non ce la facevo più. Ah, beh, un bel po', hai fatto 20 anni, 19 anni, 20 anni. Poi non ce la facevo perché avevo la radio, saltoriamente facevo dei programmi televisivi, perché io mi ritengo prestato alla televisione, come adesso c'era uno su Italia 1, ma di mo' di mattine, ma mi presto perché mi diverto. Sì, poi ti diverte tanto, il tuo, i motori sono il tuo, no? Sì, i motori. Lo fai, tra l'altro c'è anche Vicky. Sì, Vicky Pieri, sì, fantastica. La mia amica è brava. Quindi ero stanco. Poi da 105 mio capo Azan all'epoca mi disse dobbiamo fare una radio nuova, ho preso una radio nuova, cosa facciamo? E chiamiamo Richard Branson a Londra. E come è successo a Virgin Radio? Perché Azan comprò delle radio, una radio che fa lì, la radio della Gazzetta, che era Play Radio, fatta malissimo, adesso mi farò dei nemici di miei ex colleghi. La compriamo, cioè la compro, io non avevo soldi, e abbiamo fatto, capo, lo sai qual è il mio sogno? Farò il primo network rock italiano. Ma secondo te funziona? Siamo tanti, siamo alieni, ma siamo tanti i rocchettari. Alla fine mi dice sì, facciamo tre mesi di lavoro, facciamo la radio, e mancava un nome, però dico capo non possiamo chiamare Radio Ringo, cazzo sono mi Calvis Presley io, cioè come facciamo? Ci vuole un nome importante, e lui ti lo fuori al cilindro, c'è la con Richard Branson, ti piace il marchio Virgin? Da paura, c'è i primi Virgin store, megastore, rock, dico colui che ha prodotto i Sex Pistols, colui che ha prodotto il primo disco, colui che ha aperto la prima casa discografica, ha chiamato Virgin Records, e ha detto ma provo a prendere dei gruppi giovani, prendo i Sex Pistols a casa, cioè per me era... Pensa a visionare... Nome perfetto. E da lì è esploso. E correva l'anno? 2007 Virgin. Mi toglie una curiosità, ma secondo te con Virgin Radio, con l'ecosistema che avete creato, avete reso gli italiani più rock e roll, oppure avete costruito un tempio del rock, o del rocker? Allora, il rock è sempre esistito e anche all'Olivo mettevo rock, quindi si andava da i Guns N' Roses appena esplosi, la gente impazziva, poi all'Olivo avevamo tante modelle americane, quindi c'era molta clientela americana, apprezzavano molto quel genere, come apprezzavano anche il rap, non trap, eh? rap. Sì, sì, certo, certo. Quindi, quando abbiamo aperto, io lo sapevo, gli disse al mio capo, capo, io non sono molto bravo con le parole, a spiegare i progetti che ho in testa, a volte faccio fatica a portarli fuori e a spiegarglieli, mi ci vuole del tempo. c'è qualcuno che al dono invece riesce a spiegarti le cose in fretta, è molto bravo, è una dote, no? Riuscire, io ci metto un po', devo un attimino ruminare, mi sono sempre ritenuto un ruminante, e gli disse, però lui voleva subito delle spiegazioni, perché devo mettersi i soldi e fare una radio rock? E lui vedeva il lato del ritorno. Certo, e io gli dissi, facciamo così, in questo momento Milano, l'Italia con le radio è corso Buenos Aires, ci sono 20 ristoranti, sono 20 ristoranti italiani, anzi 19 italiani e un cinesino, che fai, avviole, e vedo che la gente, la vede anche lei, è stanca, è stantia, si è un po' rotta i coglioni dello spaghetto, di fatto, cacchio Milano, se noi facciamo un ristorante e lo mettiamo nei venti, soltanto per la stanchezza degli altri, riceviamo gente, perché siamo il cambio, siamo il nuovo, mettiamola così, di spiegare proprio queste parole, in questo momento le radio dicono tutte le stesse cose e mettono tutte la stessa musica, la Lady Gaga la puoi sentire da 105 come RTL, è normale, è un artista enorme, poi i ragazzi che vanno, i colleghi che parlano, di cosa vuoi che parlano? è normale, parlano più del meno, ma se senti gli sciomattutini, sono tutti uguali sono quelli là dai, e noi te lo ci prendiamo in giro, c'è quello più bravo, c'è quello meno, però comunque è quella roba lì sto dicendo una cosa non per accusare, è un dato di fatto, poi tu hai il tuo, quello che ti è più simpatico, scegli la tua radio, perché quelle cose che dici ti vengono prima in te, però bene o male le notizie sono quelle, facciamo una cosa che noi siamo completamente diversi, noi facciamo rock and roll, no? E noi parliamo di rock, quindi la gente che viene da noi ama quel genere, abbiamo uno zoccolo duro, siamo a 3 milioni e mezzo di ascolto, cioè tantissimo, l'ultimo terra abbiamo fatto più di 700 mila, è una cosa irripetibile, infatti vedremo il prossimo, cioè a me va bene così, ma era quello che volevo, perché sapevo che il pubblico rock quando ascolta una radio rock non cambia più radio. Ma secondo te il mondo digitale in cui viviamo oggi, che è una grande porta di accesso, basta a costruire musica oppure no? Ci sono i lati della medaglia e la medaglia ha sempre due lati, far dire questa frase ma è così, il lato brutto è quello di, anche negli anni 80 c'era musica, la musica era fighissima negli anni 80, però c'era la musica becera, molto divertente, che adesso quando la risento, ma produzione che ho fatta anche io, perché per un periodo ho collaborato con la Baby Records, che era una nota a casa di scuola, che faceva compilation, molto commerciali, molto… però quando vado a sentire quei pezzi dico, erano commerciali, beceri, ma cazzo ma che fighi, no? Comunque quello che dico è, anni 70-80 c'era il trash, c'era il becero, certo che c'era, ma passava quasi inosservato perché c'era tanta qualità, nella montagna di qualità è giusto che ci sia un 20% di… Anche per la legge dei grandi numeri, no? Certo, c'è il cantante trash che piglia per il culo, la cover, è normale, adesso siamo passati che c'è 80% di trash nella montagna e 20-10% di qualità, quindi per me è una sofferenza in mano… Tu pensi che sia così larga la forbice? Sì, perché cosa è successo? Cosa succede qui in Italia? Sono nati in reality, va bene, ci mancherebbe, è giusto che ci sono nati, nasce in reality, questi coi inventano dei personaggi che poi escono e tornano alla normalità, non sanno cosa fare, e cosa fa? Faccio il disc jockey, compro un computer, tractor e fanno finta di fare il disc jockey, perché io, se mi metto a fare l'attore, mi spaccano il culo a Roma, ah, ora anche Ringo, dal speaker vuol fare l'attore, hai capito? Però nel mio mestiere vengono tutti… Sono dei mondi diversi… Però nel mio mestiere ci vengono tutti a buttare musica di merda… Perché secondo te il tuo è un mondo così aperto e magari il mondo cinematografico no? No, perché… No, io ho fatto un esempio adesso con gli attori, perché li scontro sempre con Giallini, io e Marco ci scontriamo, Milano-Roma, Cinema-Mu, cioè non ti dico le chiacchierate tra noi due, non mi devi romper cazzo io! No, è questo il problema, ma va bene, però, porca miseria, creiamo qualità, una volta fare il disc jockey era dura, bisogna sapere… Noi mixavamo i vinili, adesso nessuno sarebbe in grado di mixare un vinili… No, io ho provato a farlo, è difficilissimo, vero? Hai capito? E come fai a dire che sei disc jockey allora? Un pistolero devi sapere sparare con la pistola, non puoi sparare con il laser, hai capito? Sono fine alla fantascienza… Però Ringo, alla fine se tu ci pensi nel mondo club, quando tu trovi una persona che esce reality… Ma scusa, ti interrompo, ti anticipo, ma io non posso vedere gente che fa stories, che mi spiega come si fa un film o una canzone, che dici ma che cazzo sei? Ma cosa hai fatto per darmi… Io ascolto un pittore, vero, ascolto uno scrittore vero, anche non famoso, non mi interessa, ma che sento, che lo tocco, sento un'aurea davvero scrittore… C'è molta improvvisazione… Adesso per esempio fanno tutti i cuochi, parlano tutti di cucina… Ma che due coglioni con sta cucina, sono tutti cuochi… Ah ragazzi, attenzione, ho inventato, si mette l'olio qua… Ma chi sei? Cioè, tutti si sentono un dovere di fare la stories e far vedere che sanno fare qualcosa… Ma poi poi vai a vedere il loro passato, non hanno… Né know-how… Non è giusto, non è giusto… Poi, oh, ripeto, è uno sfogo il mio, è da lì che nasce il problema, che non nasce la qualità, nasce il numero, nasce la visibilità, perché poi una è una strafiga, una è un strafigo, fa numeri e tu lo sai meglio di me, che è un lavoro sui social… Sì, sì, è diventato un lavoro… Per carità… Però prima, scusami che ti ho interrotto, perdonami… Tematica calda… Questa è bella, questa è bella… Volevo sapere, ho una curiosità, dato che chiaramente sto molto sui social e credo che magari certi cantanti siano nati proprio grazie a questa velocità che il social ti dà, ma tu magari anche… Ma sei così sicuro che canti, no? Io non so, dovresti dirmelo tu perché purtroppo… Entriamo nella qualità e nella tecnica, sei così sicuro che canti, no? E cantare lo faceva Modugno, lo faceva… Emettono dei suoni… Però ci sono oggi degli esempi molto… Lo faceva nell'epoca magari, non lo so, gruppi come PFM, gruppi come Ivan Graziani… Tornato alla rivalta in me per poi… Sì, per quella… Io conosco bene il figlio, tra l'altro… Sì, secondo me è anche questione, come dici tu prima, anche di culture, no? Adesso abbiamo questa cultura, un po', io dico mondo trap, quindi hanno quella vision lì, che va bene, l'accettiamo, però la mia domanda voleva anche essere, ok, che i cantanti possono nascere dai social o da piattaforme, tu invece, data la tua esperienza, mi hai contribuito anche magari grazie alla radio, alla crescita o al percorso di un cantante? Sì, è successo, ma anni 80, 90, io sono molto amico di Ben Nato, sono molto amico di molti cantautori, ma quello che… Allora, tutto è possibile e tutto è permesso, qua non stiamo mettendo di vieto a nessuno, ci tengo pure qua a precisarlo, uno ha il diritto di cantare come cacchio vuole, cosa vuole, per carità, poi se canta male, canta bene, sarà il pubblico… Sarà il pubblico che diceva. Io contesto il meccanismo, il meccanismo, prima il meccanismo 70, 80, 90, dava spazio molto all'arte, molto al tuo talento, alle tue capacità. Adesso la cosa è cambiata e lo specchio è messo dall'altra parte, cioè prende uno specchio e lo mette dall'altra parte e diventa completamente… è sempre la stessa stanza, è sempre lo stesso soggetto, ma con un'altra visita e cambia tutto, no? Quindi adesso i ragazzi cercano di fare delle cose, ho questo sospetto, per avere visibilità, per avere fama, per avere soldi, quello non bastano, per carità, perché i soldi servono, però la fama, la visibilità, dire io sono famoso, io conosco e faccio quello che voglio perché ho la gang e faccio… Prima invece l'artista 70, 80, che arrivava degli anni 60, era innamorato della musica. C'è ancora gente però secondo te che vive di musica. Certo, ma viene fagogitata da questo titta carne. E come fai a trovarli? Perché le case discografiche, i reality vogliono cose facili da buttare fuori. Veloci. Veloci. E tu sai benissimo che un artista, vero, che faccia sceneggiatura di un film, un attore, un cantante, un pittore, non fa un quadro in 20 minuti. Ha bisogno dei tempi. Lo può fare certo in 20 minuti, però un quadro, i quadribelli, ci vuole tempo a farli. Sono pensati e strapensati. Cioè, i quadribelli, vai a vedere quanto ci hanno messo a farli. Voglio dire, calma ragazzi. Scusa, ma tu non hai mai fatto programmi come giudice? No, non lo farei mai, te lo posso garantire. Se ti arrivasse una proposta, magari ti è arrivata. Guarda, è già arrivata all'epoca… Non pensi che sia nelle tue corde? Accetterei di fare delle cose che non mi piacciono? Lo dico solo per dei soldi. Perché adesso ho l'età… Perché ci sono tutti i coglioni della Gloria. Chiaro, chiaro. Ce l'hai, basta. Gloria non è la mia amica. Sì, sì. La spada tratta. Adesso farei delle cose per soldi. Se ci sono dei soldi che mi vale la pena, perché no? Posso mettere a posto tante cose nella mia famiglia, no? Voglio dire. E magari, certo, mi snaturerei perché farei meno a un giuramento, no? Il mio giuramento è sempre stato quello di maniera comunque punk e indie, contocorrente. Nei limiti del possibile, perché anch'io ho dei capi, anch'io… Certo, qui da racconto, no? Non è mia radio per cui lavoro. Quindi io lavoro per Mediaset. Ci mancherebbe. Però, io oggi, quello che vi sto dicendo in questo podcast, non è la legge. Io vi sto raccontando la mia storia. Certo, la tua visione. Certo, ma giusto così. Per carità di Dio, io non sto dando… Non è un consiglio, non è neanche un'imposizione. Io dico quello che vedo io. Certo. È la mia visione. Però, per esempio, ragazzi, ripeto, il problema è questo. L'arte, le televisioni ci fanno vedere questi reality. Liberissimi di farli, giustissimo di farli. E li fanno anche molto bene. Perché il fatto è fatto molto bene. Però questa cosa succede. Che ragazzo, poi che succede? Il giovane artista adesso pensa che fare il cantante sia quello. Cioè, faccio il figo, vanto allo specchio, ho l'Instagram figo, prendo un fotografo professionista, le belle foto, poi un pezzo parla di te. Poi vado lì, canto una canzone lì al reality, mi pigliano perché sono figo. No. Io ho suonato dai tempi, ho scarsi risultati. Ma si andava in cantina, si bisogna lavorare, fare i testi. Cioè, quello è il lavoro del musicista, è veramente sudare, sputare sangue, sputare sangue. Adesso, purtroppo, c'è stata una mia intervista che ha fatto scalpore sui Maneskin. Ma tutto era nato da un mio sfotto a Pelù. Pelù diceva che erano grandissimi, sono il futuro del rock. Io rischissi sotto un posto e faccio, Piero, i Maneskin stanno al rock come Mangioglio Sala Figa. A proposito di Maneskin, visto che hai detto questo, che chiaramente... Così posso chiarire ancora questa cosa. Ti piacciono? Non ti piacciono? Cosa pensi? Non mi piacciono, ma non vuol dire che non siano dei bravi artisti, ma ci mancherebbe. Io ho contestato su un giornale quello che rappresentavano. Nel senso che non rappresentano il marketing. Cioè, della serie, con i soldi, puoi creare una star. Io preferisco le star create dalla strada, dal lavoro. Se non sbaglio, però, loro hanno iniziato in strada o no? Mi ricordo male io. No, loro sono usciti da X Factor. No, hanno fatto qualcosa. Sì, 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 certo, certo. Con la Lacoste. Bisogna anche avere il coraggio di dire le cose. Certo. Però ti sto dicendo, loro sono bravissimi. Non sta dicendo che non sono bravi. No, no, io ho detto loro, non sanno suonare, ma ci mancherebbe che sanno suonare. Se vai a fare un reality di Masterchef devi sapere cucinare, di base. Cioè, mi do per scontare. Poi se non sei bravo, secondo me, non hai questo successo, chiaramente. Questa è un'altra cosa. Se sei bravo, non sei all'altezza. Però io di base dico che se uno, voi fate un podcast, di base so benissimo che il vostro lavoro lo sapete fare. Perché non penso che, sapevo benissimo di venire qua tra voi e voi due e parlare, collocchiare, interscambiare. È normale, no? Quindi loro sanno suonare, ma ci mancherebbe. No, poi loro hanno preso delle cose che fanno ridere dal rock, tipo Reggie Calze e lui, ma queste cose le faceva già Rocky Horror Picciuscio nel 73, le faceva Iggy Pop nel 76, Bowie, non ti dico quante volte sei stato travestito, no? Cioè, un po' per carità. Però il loro suono, non lo vedo così, Rocky. Per me sono un'ottima pop band loro. Ok. Ottima pop band. Ma infatti... Con tanti soldi alle spalle. Che però non avevano all'inizio. No, no, è molto bravo il loro manager, secondo me. È molto bravo il loro manager che ha puntato, ha preso delle cose, ha preso degli spazi e li ha fatti esplodere. Però equivalgono a quello che per Mari nei social possono essere di Ferragnez. Beh, questa similitudine... Beh, il management comunque anche lì è stato bravo ed è bravo anche sott'oggi. Il management è quello che fa la differenza sempre, nella riuscita di un artista. Perché tu di Fedez, Mari, mi parli più... Secondo me lui è più visto come un'influenza che un cantante, artista. Magari adesso canta meno. Prima cantava di più. Sì, però comunque hai capito. Cioè, questo modo di reagire col marketing... È vero, è vero. Poi dopo ti fa goccita. Però Rigon, secondo me, è anche... Beh, più volte più artisti, alle scorse messe di interrompo, parlando proprio di Fedez, hanno sempre detto, anche ultimamente, lui diciamo, e nasce come artista, ora si è spostato su un'altra dimensione. Sì, esatto, cioè, è un'evoluzione. È un'evoluzione. Lì è riuscito, dall'altra parte no, è normale. È stato anche intelligente. Una curiosità. Prima parlavi di pop, no? Io volevo appunto avere un'auto-opinione sul rap, che in realtà all'inizio degli anni 2000 era praticamente sparito. Ora, secondo te, il rap in realtà si è evoluto e poi è diventato quello che oggi è il trap? A me è mancato altissimo il rap. Quello che io sono cresciuto a Los Angeles, i primi anni che lo sentivo. Quello del NWA, Ice Cube, Ice T, vari gruppi dell'epoca. Perché comunque aveva, dico un'eresia, preparatevi, qualcosa in affinità con il rock c'era. E vi dico quale? Quella dei testi portati dalla strada. Di ragazzi che vivono nei ghetti senza soldi, da neri a Los Angeles, a New York, senza le possibilità. Quindi quello che scrivevano, scrivevano la loro vita. Storie vere. Beh, ma infatti hanno creato movimenti culturali apposta. E hanno creato movimenti culturali apposta. Quindi questa cosa con il rock c'è. Il rock anni 50-60 veniva fuori comunque dalla sottocultura bianca. Ragazzi di periferia, senza soldi, si buttavano nella musica. E hanno inventato il rock and roll che era duro. Sai che nei primi tempi il rock and roll veniva visto fuori legge se lo facevi. Bucevano i dischi degli artisti, no? Eri contro la chiesa, contro Gesù. Anche Elvis Presley lo filmava alla metà perché si muoveva troppo e era troppo sessuale per le ragazzine. Io molte cose le ho scoperte ad altre col film. Ecco, sì quel film là, ma terribile. Sì, al film veramente tremendo. Però io di quel film, sai cosa ho preso? Ho preso alcune sfumature che io non avevo captato prima. Perché non avendo vissuto quegli anni lì avevo letto qualcosa ma non pensavo che ci fosse questa sorta di ostracisma. Ma Elvis è stato il primo a subire atti di razzismo, pur bianco. Perché lui adorava cantare con i neri. In chiesa, è cresciuto in un quartiere povero nero, ha imparato il gospel, lo spiritual, che era prettamente per i neri nelle chiese. E hanno fatto tra l'altro nel film veramente un passaggio molto piccolo di questa fase importante. Ma vedi come sempre alla fine ci vogliono i coglioni. Comunque lui appunto, e quando un mio collega prese il suo primo 45 giri, lo mise in radio, lo boicottavano, lo censuravano. Perché dicevano, che cazzo è questo che canta come un nero? Che vergogna, un bianco. Così? Sì, sì, non lo mettevano negli dischi. Perché lui cantava, i primi pezzi erano... Profonda, profonda. Prendeva dal gospel, dal spiritual, dal blues, che arrivava poi dai campi di cotone, dagli schiavi neri. Perché è anche giusto che sappiano un po' la scuola della musica da dove nasce, no? Il gospel, lo spiritual, il blues, era musica di sofferenza. Musica di schiavi nei campi di cotone frustati dai bianchi ricchi, che dovevano raccogliere tot chili e tonnellate di cotone. E quindi loro, per la loro sofferenza, mangiavano poco, bevevano poco e loro pregavano cantando. Sì, con quella... Con le nenie che erano le nenie che gli permettevano di andare avanti e sopravvivere. Trovano un ritmo, sofferenza bestiale. E che la sofferenza ha creato il blues, lo spiritual, il gospel. Si capisci? Elvis è cresciuto in quel quartiere, però non lo faceva da bianco. Lui diceva, ma che colpa ne ho? Sono bianco e canto quello. Poi, piccola lezione musicale. Mi tolglie una questione, c'è un doppio nodo fra la figura quasi mitologica dei rockers e poi con la perdita e il lascito. Quindi John Lennon, Amy Winehouse, Freddie Mercury, Kurt Cobain, David Bowie. Sono solo alcune delle figure che hanno praticamente segnato questa traccia. Ma, però, oggi ancora se ne parla. Secondo te, secondo la tua visione, sono solo Vaneggi o è la magia del rock? C'è il fatto che loro siano scomparsi... Sì, e che comunque siano... C'è un vuoto? E comunque oggi se ne continui comunque a parlare. E questa è una cosa che mi fa paura, questa cosa che mi avete detto adesso. Perché, mano a mano che stanno scomparendo i grandi rock, poi chi ci rimane? Chi farà questa cosa? Cioè, ero a Los Angeles a settembre, anzi a Palm Springs, a Indio, Coachella. E c'era il più grande festival del mondo. 540.000 paganti. 540.000 paganti. Io rimetto 500.000 persone. Ma scusami, qual è questo qui? Il Power Trip. No, Coachella io vado io a Aprile. Coachella è... No, Perringo non ci andrebbe mai, o magari se c'è andato, non so, è una roba leggerissima. Lo yogurt non mi piace. Esatto. Cioè, yogurt non mi interessa, voglio cose diverse. Poi lì, tra l'altro, i festival... Perché li fanno lì? Perché sono degli spazi incredibili. Gli maneschi sono da Coachella. I fatti sono andati, io. Perfetto, perfettissimo. Benissimo. Questo, il Power Trip, c'erano Metallica, Guns N' Roses, Jesus Priest, Iron Maiden. 540.000 persone. Iron Maiden e ACDC. Quando è entrato, erano fermi da 8 anni gli ACDC. L'ultimo concerto, l'avevamo visto qua, anche in Italia, perché eravamo noi radio ufficiale, anche a Imola. Quando l'ho visto uscire, tutti con i capelli bianchi. Hai avuto un colpo? Mi avevano avuto un colpo, perché lui, Angus, ancora col suo vestitino da scolaretto, suona come un pazzo. Hai questi capelli bianchi? Quando l'ho visto a vicino, ci siamo visti pomeriggio, vedevo proprio un 76enne. Eh. No? Però guerriero. Dopo di questo, cosa ci sarà? Eh. Questo purtroppo, non lo so. Questo chi con mano, quello che riferiscono. Però lui, lui, quando è salito sul palco, che ha acceso gli amplificatori, la chitarra, un ragazzetto. Guardami Jagger, mamma mia. Eh, sì, sì, esatto, esatto. Che figaccione è? È fighissimo. Sì, è questo bassur. A San Siro, l'estate scorsa, l'ho visto 40 volte su giù per il palco, correre, cantare. Prova a cantare e correre. Vedi il fiato. Devi rinarti, eh? No, no, è bestiale, è bestiale. E non quello che fai tu. Volevo andare a vedere l'altra sera Madonna, non sono uscito, perché ero curioso di vedere uno spettacolo di Madonna adesso, non ce l'ho fatta. Ero incuriosito. Voi ci siete stati, no? No, no, però mi hanno detto chi c'è stato, mi hanno detto che è stato veramente un grande spettacolo. Che nonostante lei sia più in là. Lei brava a fare queste cose. È un fenomeno. Sì, 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 assolutamente sì. Però, voglio dire, tolti quei grandi, boh, mi hai fatto venire ancora più paura. Qualcosa, più malinconia magari. Sì, perché poi... Deve venire fuori qualcosa. È un cambio, no? Come hai detto prima. Sì. Ci sono anche a Los Angeles grandi artisti, ma sono molto contaminati. Cioè, e pagano poi vari, per esempio nel blues, chi è che ascolta più blues oggi? Tu, lui. Io, io, noi siamo fratelli, quindi io, sì. Però capisci, meriterebbe veramente di essere spiegato il blues, di essere promosso. Non si fa. Come per esempio il jazz, ma sono già musiche importanti. Non c'è, c'è solo sbocco. Io non ho un contesto, io dico che tutto è giusto che ci sia. Dalla treppa, lo ripeto, lo ribadisco, ragazzi che ascoltate, è tutto giusto. Dico solo, cacchio, però non può tutto questo commerciale, questo marketing, distruggere quello che è la passione, l'arte, il calore e le cose vere. Cioè, mi dispiace che gli organi di competenza, televisione, radio, mi ci metto anch'io, radio, televisione, facciano solo programmi dove va solo marketing. Va solo marketing. Cioè, un giorno pagheremo questo scotto, ragazzi, attenzione. Non ce ne stiamo rendendo conto, forse magari tutti noi ce ne rendiamo conto, ma pagheremo, più in là pagheremo lo scotto di questa cosa qui. Perché tu, negli anni 60, sei un giovane cantante, vedete Sanremo, canzonissima, vedete gente cantare molto brava, di grande livello, da Johnny Lorelli a... ma lo stesso al Bano, aveva una voce da giovane pazzesca, no? Cioè, comunque, Domenico Modugno ha fatto... Ma certo, Ragneri. Quindi si facevano come riferimento con quegli artisti. Adesso i giovani hanno riferimento cose molto commerciali. La mia domanda è, a cosa porterà tutto ciò? Che a un certo punto ci sarà una rottura, ci sarà un'inversione, probabilmente. La qualità deve uscire. Sì, sono d'accordo con te, ci sono sempre cicli, cicli ricicli storici. Esatto. Mi auguro che poi vengono ricicli. Come nell'economia, ci sarà anche nella musica tutto un ciclo. Però toglietemi da cazzi i bimbi vincchi, perché non ne posso più. Voglio fare una maglietta, veramente, vi prego. Fai una maglietta. Certo. Basta. Fanno parte anche loro del ciclo, dai. Calci in culo, cazzo. Allora, passiamo ora alle domande a Raffica. Avrai delle domande, risposte veloci, però poi se le vuoi argomentare sei liberissimo. Ma chiedete quello che volete, tanto ma sono qua. Neanche la pizza mi hai fatto trovare. Allora, il tuo primo disco. Il primo disco io ho fatto un 45 giri, oddio, non mi ricordo neanche più, con Roberto Galli, che mi produceva, si chiamava Sound of Sixties. Tanto lo cercavo su Google, se lo trovo, e comprarmelo. E lì ho imparato cosa vuole dire fare i conti con Scendere a Patti. Ok. Perso in partenza. Ho cantato una canzone che non era mia, ho cantato una cosa che volevano i produttori, ho cantato... Una cosa che non era tua. No, non l'ho mai sentita. Mi piaceva il video, perché c'era una gnocca pazzesca nel video, vabbè, il videoclip. Però lì ho imparato... E poi feci un disco negli anni 90, molto interessante, volevo fare elettronica rock, anche lì ascoltare la casa discografica non era quello che volevo fare io. E quindi mi sono incazzato, non voglio più fare nulla, faccio solo radio, non riesco a trovarmi con i produttori italiani, con le mie idee. Non combaciano. Usare dei suoni che poi, dopo tre anni esplodevano, mi faceva ancora di più arrabbiare. E' certo, chiaro. Ma l'ho fatto tre anni fa, cazzo. Purtroppo esiste scendere a patti. L'ho provato sulla mia pelle, anche. Ed è sbagliata, a volte. Vai Ale. L'opportunità più bella che ti ha dato il tuo lavoro? L'opportunità è quella di continuare a viaggiare, perché sono assetato di viaggi, di occhi nuovi, di volti nuovi, accenti nuovi, cibi nuovi, e le posso fare solo tanto viaggiando. E il mio lavoro mi consente di fare questo, a cui sono grato, no? Certo. Il tuo limpo dei rockers? Elvis tutti, il primo, perché è stato il primo. Senza di lui non sarebbe nato il rock and roll. Perlomeno è stato il primo che l'ha fatto esplodere. Poi Beatles. Poi gruppi come Creedence, Creed Water Revival americani, o inglesi, magari tipo i Cream, tutta quella cultura americana-inglese, questi sono i primi. Molto rispetto per i Pink Floyd. Alcune cose di Pink Floyd mi danno ancora i brividi. Sono delle cose irripetibili. Ecco, questi sono i più grandi. Senza di quelli, i precursori, non puoi capire del resto. La canzone che più hai ascoltato quest'anno? Eh, me l'ha detta... Aspetta, devo vedere... È vero, il rap. Sì, il rap. Ah, i Clash. I Clash, ho ascoltato i Clash. Guns of Brixton. Dice che l'ho ascoltata tipo 200 volte. No, no. La cosa più rock and roll che si può fare nel 2024? La cosa più rock and roll che si può fare... Cacca, che domanda importante. Ragazzi, mettetemi imbarazzo. Più rock and roll... Beh, arriva l'estate, arrivano i grandi festival. Luca Summer Festival, High Days, arriva il Firenze Rock Festival che sarà importantissimo. Per chi non l'ha mai sentito, ho visto un gruppo rock dal vivo e comparsi un biglietto e andare a vedere dal vivo... Cosa succede? Cosa succede? Perché è veramente la potenza pura. Questo è rock and roll. Poi, se vuoi che parlo di vita, rock and roll è... Cercare ancora parole scomparse, come l'amicizia, interagire, scoprire, provare. abbattere certi muri, però diventerai quasi un prete, quindi non mi compete, dai. Un prete rock. Ringo, si assora la cultura del rock. Che farebbe? Beh, sarebbe l'unico modo che potrebbe avvicinare alla politica. Perché mi piacerebbe fare politica un giorno per politiche giovanili, star vicini ai giovani. Cioè, io so cosa vuol dire la droga, che c'è stata qua in Italia, cosa ha fatto. Ho perso amici, ho perso persone a me molto vicine. Vengo da un quartiere povero, so cosa vuol dire far parte di una famiglia numerosa, aver pochi soldi. Quindi so un giovane che non ha tanti mezzi, cosa può provare? La depressione, la solitudine, essere tristi, la vergogna di sentirsi tristi. La vergogna di sentirsi tristi. E non so, io non so, adesso dico parole grosse, ma non so se sarei in grado di poter svolgere quel compito. Però sono sicuro che, avendo portato sulla mia pelle alcune cose, potrei capire dei ragazzi e dare una mano per metterli su una strada di un certo tipo, ecco. E spiegargli che a volte alcune cose portano soltanto all'autodistruzione e che non è giusto perché la vita è troppo figa, ragazzi. Cioè, troppo bella. Però ci vogliono i mezzi e il tempo per poterglielo spiegare. Ecco, allora mi ritaglierei un ruolo politico per poter fare questo con i giovani. Quello mi piacerebbe tantissimo. All'ultima domanda, visto che noi ci chiamiamo Heroes Podcast, ci ritoglie una curiosità. Ma è vero che uno dei tuoi primi lavori è stato lavorare al salone Hair for Heroes? Certo, e io ero socio. E sai con chi ero socio lì? Con Nicola Guiducci. No, che poi te lo sei ritrovato dopo. No, eravamo già amici la prima, poi collaboravamo col plastic e facevamo quello. Abbiamo detto, facciamo un punto di trovo a Milano per i punk, per le new wave, non c'era. E negli anni 80, i primi anni 80, lì si faceva tutto. Tatuaggi, capelli colorati, durato poco. Durato poco perché poi, vabbè, è troppo lungo da spiegare la storia. Però quello che si è creato dentro lì con Nicola, devo dire, era molto bello. Lui era il direttore artistico di Air 4 Heroes. Ma andava? Madonna, ma certo. Certo, sì, sì. Veniva a farsi le creste chiunque, da Junior Russo a Ick Risma. Ha capito? Cioè, no, no. È stata una parte importante dove da giovane ho capito cosa vuol dire avere a fare con gli artisti, le mode del mondo. E poi, ripeto, Nicola Guiducci, fu lui a inventare il nome, Air 4 Heroes. e disse, cacchio Nicola, ma che nome hai tirato fuori? Fantastico. Ragazzi, grazie a Ringo per il suo tempo, grazie mille, grazie mille, grazie mille.